Personaggi di Legnano Giovanni Re, il decano dei farmacisti Suo padre fu il pioniere dell'aria Già da piccolo il mio sogno era sempre stato quello di fare farmacista pur essendo figlio di un direttore dell'azienda del gas di Legnano con la possibilità quindi anche di essere inserito nello stesso ente L'anziano farmacista di Legnano Giovanni Re inizia così il racconto della sua vita lunga ben 88 anni dei quali una sessantina trascorsi nella sua farmacia in corso Sempione salvo una interruzione di qualche anno trascorso in Russia come ufficiale sanitario nel corpo di spedizione dell'Armir Da alcuni anni il dottor Re è in pensione ha lavorato fino a 85 anni poi ha ceduto al distintivo professionale dell'ordine dei farmacisti e il camice bianco alla figlia Costanza e al genero Oliviero Colombo i quali hanno potenziato il settore erboristico, cosmetico e dietetico della farmacia Mi sono laureato a Pavia nel 1938 continua l'anziano farmacista e dopo una breve tirocinio sono diventato nel 1940 titolare di una farmacia in città già del dottor Alfredo Marzagalli poi denominata farmacia Sempione Legnano contava allora una popolazione di 34.000 abitanti e le farmacie erano cinque due in piazza Umberto I, oggi San Magno di Achille Campiglio e di Francesco Marcello altre due in corso Garibaldi titolari rispettivamente Renzo Mai e Guglielmo Sacchetti quindi quella del dottor Ezio Tornadu in via Novara e infine la mia in corso Sempione Solo un anno dopo l'avvio della mia nuova attività nel 1941 fu inviato in Russia con la gloriosa Armir come ufficiale sanitario nell'ospedale di riserva di Kharkov poi all'ospedale di campo numero 243 Nei giorni della disastrosa ritirata io e alcuni colleghi dopo aver provveduto ad evacuare tutti i feriti iniziamo la nostra personale ritirata a piedi di sera con 43 gradi sotto zero e camminiamo per sette giorni per raggiungere la città di Grazo Rov L'anziano farmacista è visibilmente turbato dai ricordi di guerra Gli chiedo allora, cambiando argomento di parlarmi del papà Costante uno dei soci fondatori del Club Vinci costituito a Legnano nel 1907 da un gruppo di estrosi legnanesi con l'intento pionieristico di costruire un monoplano tipo Bleriot ribattizzato Legnano I e poi farlo volare questo gruppo di pionieri dell'aria progettava di brevettare il prototipo realizzato per poi avviarne la costruzione in serie di nuovo gli occhi del dottor Giovanni si infiammano la sua attenzione è concentrata in un fascicolo che ha davanti sul tavolo e che raccoglie fotografie e tanti fogli un po' ingialliti che l'anziano farmacista gira e rigira nelle mani poi ecco che trova una lettera manoscritta della figlia Mugiasca un altro dei soci del Club Vinci nella quale si ricostruisce la cronistoria del Club stesso e le fasi di costruzione del monoplano gli aspiranti icari legnanesi erano Riccardo Cardazzi, impiegato Luigi Conti, padre del giornalista legnanese Guido Piero Piero Parini, genitore di Gigi ed Ernesto il poeta dialettale legnanese Luigi Taillet, direttore del saponificio esistente in altre stazioni i fratelli Pagani, mobilieri in città Costante Re, primo e unico vulcanizzatore a Legnano e dell'intera area lombarda appassionato di motori, padre del nostro farmacista Giovanni poi Eraldo Bonecchi, generoso industriale mecenate dell'impresa aviatoria e qualche altro legnanese di cui ci sfugge il nome il prototipo del monoplano Legnano 1 Legnano 1, assemblato in un paio d'anni era così pronto per la prova di volo che si svorselo nell'aeroporto militare sperimentale di Cameri, quella Novara alla presenza degli ingegneri militari e del comandante del campo il pilota del Legnano 1 accese il motore che era uno stellare anzani a tre cilindri il monoplano iniziò lentamente a rullare e quindi si alzò in volo sull'aeroporto per alcuni minuti tra gli applausi delle gnanese presenti pilota e collaudatore del monoplano era proprio Costante Re futuro padre del farmacista Giovanni allora ancora minorenne tanto che si dovette prima acquisire l'assenso scritto dei genitori dopo questo iniziale successo l'impresa ebbe purtroppo un seguito inglorioso solo per la mancanza di finanziamenti nel salutarci il dottor Giovanni Re ci mostra il berretto da pilota che il papà aveva in testa nella storica prova di collaudo confezionato in morbida pelle color marrone con visiera ampia molto simile al modello che copriva il capo di Gabriele D'Annunzio pilota che è documentato nella foto dell'epoca questo è un articolo di Orlando Abiuso è un articolo di D'Annunzio